ciao a tutti come vi avevo annunciato un'oretta fa perché non ero certa di poterlo fare per via dei soliti impegni e facciamo questo questa diretta su un sempre sul tema della fusione che è un poi è il fulcro del metodo di cla di adriana buggino è un metodo che ci appassiona in molti a me mi appassiona tantissimo tant'è che cerco anche di trasmetterlo a chi è interessato e chi ha le prime armi insomma bisogna un pochino di vedere di vederlo varie volte questo sistema della fusione ho scelto un soggetto semplice e che però vi può dare soddisfazione perché avevo pensato di farvi fare solo qualche esercizio ma l'esercizio all'inizio è poco stimolante uno fa delle cose che non riesce a capire bene e l'unica cosa che vi voglio diciamo così ricordare è che il metodo proprio una delle prime cose che dobbiamo imparare a fare con questo metodo è la fusione quindi uno dei primi esercizi è quello di prendere il colore molto denso e molto bagnato e quindi che succede con questo colore denso e bagnato io posso fare mi prendo un altro colore e vado a fare questa malefica fusione che vuol dire che mi attacco qui cerco di tenere il foglio leggermente inclinato per facilitarlo e mi attacco all'altro colore ho preso un po troppo colore però è solo una cosa diciamo così veloce veloce ogni volta punta e pancia e quindi questi due colori si mescolano tra di loro e in pratica io faccio ben poco l'unica cosa che devo stare attenta è di attaccarmi alla managoccia dopodiché l'acqua e il pigmento fanno il loro lavoro poi questi colori si mescoleranno ok questo è proprio il principio base base della fusione ci tenevo a ricordarvelo perché a volte chi ha le prime armi usa il pigmento molto molto slavato per cui è chiaro che se io uso un pigmento così diciamo quasi tutta acqua poi quando vado ad attaccarmi sempre con un altro colore molto slavato la fusione non si vede vabbè questo è un foglio un foglio brutto comunque i colori slavati poi non danno soddisfazione lo dico perché all'inizio è normale fare le cose slavate bene ho preparato due colori sto usando questi della Cotman Winsor & Newton perché sono quelli più da battaglia e all'inizio non ci va di consumare i colori quelli buoni della sminche anche se poi qui ho preparato un po' di giallo e qui ci sta anche quello della sminche comunque procedo ho fatto vi ho messo la foto è un piccolo diciamo così una piccola architettura vi avverto che la carta è molto brutta io già l'ho provata ed è bruttissima però sempre perché è spiegativo mi vado a fare i contorni di questa struttura cerco di farli puliti per ora di non rompere nulla vado con calma perché vado con calma perché perché il colore è denso ed è bello bagnato il pennello lo ripeto perché più è grande questo non è molto grande perché il lavoro è piccolo questo è un 20 da vinci più il pennello è grande più fa da serbatoio quindi assorbe trattiene tanta acqua e così non mi si asciuga il lavoro vedete come vado piano faccio il lavoro di prima quello della goccia gli vado intorno però non vado a lavorare in questo modo ma lo prendo per il verso della goccia ora che faccio posso inserire l'altro colore che mi sono preparata siccome è un giallo certo verrà un colore strano ma è soltanto spiegativo come direbbe la maestra Adriana mi sono cadute le gocce non fa nulla gli vado vicino e tocco il colore come potete vedere si stanno fondendo da sole i colori senza il mio aiuto e quindi sto mettendo tanto giallo perché ho deciso questi due colori per sfumare siccome non lo voglio fare tutto giallo o tutto blu perché altrimenti mi verrà un po' troppo pesante posso continuare qui ad aggiungere un pochino di blu a me piace tanto lo spruzzino anche se capisco vi farò vedere anche con il pennello naturalmente che all'inizio non è facile però io lo trovo molto divertente perché io decido di mandare il colore in là e quindi con lo spruzzino lo mando in là la carta sicuramente è cellulosa è orribile però insomma ripeto giusto per farci un po' compagnia nel momento della fusione diciamo che è bene non interrompere infatti io per ora non guardo se state seguendo e se avete delle domande da fare eventualmente lo vediamo in un secondo tempo se io qui diciamo da questa parte lo voglio alleggerire non lo voglio troppo colorare uso il pennello ho preso un pennello qualunque ora però ecco vado a sfumare si dice in gergo in modo che non restino delle zone con delle linee d'ore ok se a me piace così lo posso lasciare così altrimenti una cosa che si può fare quando ancora il foglio è tutto bagnato si vede che è bagnato posso intensificare qualche punto mettendo proprio il colore diciamo il colore da da quella parte che ho intenzione io di intensificare ok si spande da solo voglio mettere un po di giallo qua lo metto che ancora qui è bagnato non molto perché sennò poi dopo ripeto in questo caso vi farò vedere con il pennello come si sfuma l'importante è non lasciare delle linee nette per ora mi sono concentrata sulla parte sopra ora siccome questi noi li chiamiamo negativi nel senso che esce fuori una forma perché gli sono andata intorno quindi con un colore nel metodo di CLA vogliamo spezzare queste forme così perfettine quindi io lo vado un po a rompere le forme tanto poi dopo in un secondo tempo le potrò riprendere con le finiture quindi da qualche parte butto là un pochino di giallo e sfumo sempre per non lasciare le famose linee dure qui posso diciamo così interrompere un pochino lo voglio interrompere da questo lato e che faccio lo interrompo qui facendo una linea sottile però questa è una cosa che io sto facendo voi potete anche provare a farla ma senza diciamo così questa precisione come fate una macchia ecco si interrompono tutto questo bianco che poi quando il lavoro è finito è fastidioso e diventa difficoltoso poi si può velarlo però uno dovrebbe velare tutto voglio pure velare proprio perché metto il blu qui perché questo diciamo è un video molto semplice però poi con il tempo sento l'esigenza di fare in modo che i colori stiano tutti insieme e quindi che faccio pure qui faccio entrare il blu come dice la canzone dove il blu non c'è e quindi ho terminato la mia fusione sopra sotto mi è venuto in mente di fare una cosa carina non so perché mi dice aggiungi mi chiesto degli ospiti approva non so perché mi dice che devo approvare scusate non mi piace se poi qualcuno mi sa perché ho dovuto approvare non mi era mai capitato ok allora passiamo dalla parte di sotto il mare vi voglio far vedere in modo carino semplice che va bene anche per i principianti certo bisogna prenderci un pochettino la mano però si può fare in questo caso il colore deve essere denso però farò delle strisciate per cui se il pennello è troppo bagnato non so perché vedo se il pennello è troppo bagnato non mi farà le strisciate ma mi farà è troppo bagnato non mi farà le strisciate ma 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 mi farà le strisci